Sono il sindaco sicuramente di tutti, come ho detto in campagna elettorale, lavorerò per i miei compaesani e quindi la nostra squadra sarà in grado di portare avanti i programmi e di dare voce a tutti quei concittadini che in questo momento non si sentivano rappresentati. Ma comunque sarò il sindaco di tutti, come sempre detto.